Ciao a tutti e ben ritrovati qui sul canale Dama Colleziona. Come potete vedere qui oggi vi mostro l'edizione Collector's Edition in 4K oltre HD, edizione cinquantesimo anniversario del seminale film Chinatown, lungometraggio neo-noir uscito nel 1974 con protagonista Jack Nicholson e Faye Dunaway. Una pellicola davvero sublime che ha riportato in auge il genere noir e il film secondo me è un capostipite del genere, non ha bisogno di presentazioni perché è davvero uno dei lungometraggi più seminali del genere noir, del genere neo-noir. E poi a mio avviso è anche uno dei film più belli del regista polacco Roman Polanski con un sublime Jack Nicholson, Faye Dunaway e il grandissimo John Huston, regista d'alta classe che in questo caso lo troviamo come attore. Come vi dicevo questa qui è un'edizione cinquantesimo anniversario in formato 4K Ultra HD più Blu-ray, quindi un'edizione Premium Prestige, edita da Paramount ma distribuita in Italia da Plyon Pictures ed è un'edizione molto molto bella, accuratissima, con anche dei goodies, con anche degli inserti particolari all'interno. Questo qui è il retro, come possiamo vedere ci sono tantissimi contenuti speciali, sono davvero tanti, commenti dello sceneggiatore Robert Throne, David Fincher, varie varie cose relative al film Chinatown, un seminale pellicola davvero sublime, del genere neo-noir, ha segnato un'epoca ed è un film spartiacque. Per quanto riguarda l'audio, questa edizione contiene ovviamente due dischi, il disco 4K Ultra HD e il disco Blu-ray. In entrambi i supporti fisici troviamo italiano in 2.0 Dolby Digital. Questa qui è la costina, troviamo il logo Paramount, Chinatown, cinquantesimo anniversario e i due formati Ultra HD Blu-ray e il disco Blu-ray. Mentre dal lato apertura notiamo che all'interno c'è la Marai con alcuni goodies. Adesso provvediamo allo spacchettamento, ecco qua, all'interno troviamo subito la Marai con la stessa grafica dello slipcase e poi troviamo un poster e delle cartoline. e in più c'è anche un mini booklet, un inserto cartaceo e anche il biglietto da visita dell'investigatore Gittis nel biglietto da visita del detective interpretato da Jack Nicholson. Molto bello come gadget, questo qui molto molto carino, semplice ma carino a mio avviso. E poi c'è anche un altro insertino che non vuole uscire che è questo qui che è un cartello esposto relativo alle vendite di alcuni terreni vendita di terreni che alla fine è il McGuffin dell'intera storia per chi ha visto il film saprà benissimo a cosa fa riferimento questo cartello. E poi basta, non c'è più niente all'interno di questa edizione. Lo slipcase è bello rigido, bello sostanzioso, bello spesso, un bel cartone rigido, non male come cosa, un po' come le edizioni UCE di Warner Bros. o come le edizioni Arrow, bello sostanzioso. E adesso andiamo a vedere gli inserti questo e questo, ve li ho già fatti vedere. Passiamo al film. Questa è la Marai. Dietro vengono riportate le stesse caratteristiche riportate nel retro dello slipcase, stessa grafica e all'interno della Marai troviamo ben due dischi. Il disco Blu-ray e il disco 4K Ultra HD. Quindi a Marai è un pochino più cicciottosa contenente i due dischi. Andiamo a vedere subito il buclettino che in realtà è un poster. Io pensavo fosse un buclet, ma in realtà è un poster. Ragazzi, mi sono sbagliato. Salvate la nostra città. Los Angeles sta morendo di sete. Votate sì. Novembre 6. Comitato dei cittadini della nostra città. è una riproduzione di un cartello del film. Anche questo ha una importanza diegetica notevole, questo cartello, perché fa riferimento sempre ai terreni, all'acquisizione dei terreni, ad una falda acquifera. Quindi ovviamente l'acqua è un elemento importante. La terra e l'acqua sono due elementi importanti. Mentre questo è il poster originale dell'epoca. Come potete vedere, è un poster piegato, stampato su una carta di una bella grammatura. Finitura lucida. Ha un 40x50 ed è il poster originale dell'epoca. Il poster classico, l'art work classico di Chinatown. Quello che viene in mente quando si pensa a Chinatown. Bellissimo poster e illustrazione davvero cult per questo stupendo film. E poi ci sono le cartoline. Le cartoline sono tante. Sono in totale sei. Cartoline frontalmente con una finitura lucida, liscia. Nel reto troviamo ruvido. In questo, hanno una bella grammatura. E dietro sembrano voler completare un puzzle. Vedete che sembra che ci sono degli elementi tagliati. Così. E insomma, il retro è una sorta di mappa di una cartina della città di LA. L'importante per la storia di Chinatown. Infatti, questa è la frase celebre che vi dicevo prima. Lascia perdere Jack, it's Chinatown. Forget it Jack, it's Chinatown. Bellissima questa cosa di creare una sorta di puzzle cartina. Per questo film è un noir. Incentrato su un detective. Davvero carina come idea. Poi frontalmente le cartoline sono delle immagini del film. Sono delle scene dei frame di alcune scene celebri del film. Ed ecco qui il cartello. E basta. Stupenda edizione. Con cartoline. Citazione diegetica del film. Quindi un inserto legato al film. Come questa riproduzione del cartello a mo' di cartolina. Il biglietto da visita del nostro investigatore. Il poster originale dell'epoca. Amarai. Doppio disco. 4K più Blu-ray. E il tutto racchiuso in questo slipcase rigido. Beh, complessivamente mi sembra una buonissima edizione. Molto molto valida. Ci sono tantissimi contenuti speciali come abbiamo visto prima. Edizione completa con il miglior formato video presente sul mercato. Quindi Ultra HD. C'è il Blu-ray. E ci sono tantissimi inserti speciali. Gli manca solamente un mini booklet con alcune spiegazioni. Con alcuni testi sul film Chinatown. Ma per il resto mi sembra di consigliarla come edizione molto molto bella e valida. Per me si festeggia degnamente il cinquantesimo anniversario di questa seminale pellicola. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo lungometraggio. Cosa ne pensate in generale di questa edizione. Se l'avete comprata anche voi. Vi interessa, non vi interessa. La comprerete. Sostanza come sempre. Vi invito a farmi sapere. A lasciare un commento. E a creare una sorta di dibattito. Sul film. Sull'edizione che vi ho proposto qui oggi. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. E vi do appuntamento tra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto.